Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, rieccoci qui, ore 13.30 anche oggi per parlare insieme di Fanta Carcio e oggi andiamo a concludere, almeno per ora, il progetto Basta Slot. Nel video di oggi andremo a cercare di condensare, di riassumere tutti i concetti più importanti che abbiamo visto nelle ultime due settimane. Ovviamente non andremo nel dettaglio su ogni punto, altrimenti non avrebbe avuto senso fare due settimane di video specifici, però diciamo che sarà un video molto utile per riordinare tutte le idee che ci siamo fatte durante questo percorso, però poi ovviamente per entrare nello specifico vi rimando ai video già pubblicati sul canale. Prima di continuare però se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un like, è gratis, ma serve davvero un sacco e adesso andiamo a parlare della teoria degli slot. Alla fine questa teoria degli slot funziona oppure no? All'asta del Fanta Calcio si comprano i giocatori o si comprano gli slot? Andiamo a vedere a quali risposte, a quali conclusioni siamo arrivati. Eccoci qui, la teoria degli slot funziona? Tutto quello che devi sapere. Allora slot o giocatori, quali sono i punti su cui ci siamo soffermati maggiormente e quali sono le conclusioni alle quali siamo arrivate? Sicuramente che alla domanda slot o giocatori dobbiamo innanzitutto suddividere l'argomento in due sotto argomenti, la gestione del budget e la scelta dei nomi. A livello di gestione del budget possiamo dare una risposta, slot o giocatori, a livello di scelta dei nomi ne possiamo dare un'altra. Poi abbiamo visto come sia fondamentale trattare questo argomento a seconda della tipologia di slot e siamo infine arrivati a quella che sarà una delle novità più importanti nel nuovo sistema di fasce della prossima estate, ovvero l'introduzione del concetto di rischio nelle fasce, l'introduzione di una sorta di rating, poi andremo a vedere come strutturarlo per dare delle informazioni maggiori, aggiuntive appunto ai nostri nomi che sono nelle nostre fasce. Partiamo ora dalla gestione del budget e dalla scelta dei nomi. La domanda che mi devo fare quando parlo di budget in ottica teoria degli slot è, devo stanziare un budget specifico per quel giocatore X? La scelta del giocatore X al posto di quello Y mi svolta al fantacalcio? E qui ovviamente stiamo parlando di scelta dei nomi. Siamo arrivati alla conclusione che a seconda della tipologia di slot appunto le risposte cambiano, andiamo a vedere come cambiano. Tipologia di slot, abbiamo parlato di regolaristi, di titolari, di tutti quei nomi che andiamo a prendere come sesto, settimo, ottavo slot a completamento di un reparto, soprattutto difesa e centrocampo. Abbiamo detto che in questo caso, in questa tipologia di slot, quello che andiamo a comprare sono sempre gli slot e non i nomi. Quindi qui la teoria degli slot è confermata al 100% sia a livello di budget sia a livello di nomi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che io non devo arrivare all'asta con 4-5 nomi in testa basandomi appunto sulla tipologia di slot regolaristi e non devo neanche stanziare un budget specifico per quel determinato nome. Mi devo far trasportare dall'asta, devo sfruttare l'andamento sinusidale dell'asta del fantacalcio e andare a prendere le occasioni low cost a pochi crediti per andare ad occupare quegli slot. Questo perché? Non perché non ci siano regolaristi migliori di altri, lo sappiamo, ma perché non è qui che andiamo a creare il gap, il vantaggio per poter fare la differenza al fantacalcio. E allora tra la qualità del nome e il risparmio vado a scegliere il risparmio. Scommesse, soprattutto ci siamo concentrati sulle scommesse in attacco. Per quanto riguarda il budget, la teoria degli slot è ancora verificata. Che cosa vuol dire? Vuol dire che io quando vado a completare l'attacco con quelle scommesse low cost a 1, 2, 3 crediti, non devo stanziare un budget specifico per quel determinato nome, perché sostanzialmente tutte le scommesse in attacco si pagano più o meno uguale. Ma a livello di scelta dei nomi non devo comprare lo slot, ma devo comprare il nome. Abbiamo visto come dopo un'attenta analisi possiamo andare a schermare quel grosso gruppo di scommesse senza ovviamente avere la presunzione di prendere 3-4 scommesse e azzeccarle tutte. Ma almeno possiamo toglierci, diciamo, da quel listone di scommesse, tanti nomi che molto molto difficilmente andranno a overperformare. Abbiamo parlato poi dei top, ovviamente parlando di top in attacco soprattutto. E qui abbiamo visto che anche a livello di budget purtroppo non posso comprare esclusivamente lo slot, ma devo iniziare a pensare a distanziare un determinato budget a seconda del top che voglio prendere. Se l'anno prossimo voglio prendere un Vlaovic o un immobile dovrò stanziare sicuramente già in maniera preventiva un budget superiore ad altri primi slot. Questo perché? Perché ovviamente non tutti i primi slot soprattutto in attacco sono uguali tra di loro. Quindi qui andremo a inserire per la prima volta il concetto di rating andando a individuare all'interno di quella determinata fascia, all'interno di quella determinata tipologia di slot, un rating che ci permetta di diversificare anche durante l'asta e quindi durante la gestione dei nostri nomi quali siano i top, i primi slot per cui valga la pena spendere di più. Abbiamo parlato poi dei secondi slot a centro campo e abbiamo visto che a livello di budget anche qui la torre degli slot è abbastanza confermata nel senso che più o meno il range di spesa in ogni asta, parlando di leghe più o meno a 10 con il modificatore difesa, va da un 5-6% fino ad arrivare massimo a un 7-7,5%. Quindi qui a livello di budget non devo stanziare una cifra predeterminata, scelgo il nome solamente per il prezzo, cioè se ho due nomi che mi vanno al 7% circa, in quel caso lì vale la pena magari avere una preferenza. Ma se un secondo slot a centro campo va all'8% e l'altro va al 5%, abbiamo visto come in realtà non ci sia tutta questa differenza a livello di fantamedia all'interno di questa categoria. E allora abbiamo fatto l'esempio magari meglio un barella al 5% che un Cialanolu al 7-8%. Questo perché la fantamedia di Cialanolu non giustifica un 3% di budget in più rispetto a quella di un barella. Questo è un esempio ma se ne potevano fare anche altri. Abbiamo poi infine parlato dei secondi slot in attacco, anche qui a livello di budget non mi devo fare grossi problemi perché più o meno abbiamo visto come i secondi slot in attacco vanno sempre tra il 12, 13, 14, 15% circa, ma a livello di nome è fondamentale fare le scelte giuste. Questo perché, anche qui introducendo il concetto di rating, se voglio comprare un secondo slot in attacco devo cercare di comprare tra virgolette il secondo slot più sicuro possibile. Ovviamente al fantacalcio e nel calcio in generale di sicuro al 100% non c'è nulla ma possono esserci dei secondi slot che hanno delle variabili di rischio superiori agli altri. Quali sono queste variabili di rischio? Abbiamo quindi, siamo arrivati ecco all'introduzione del rating, al concetto di inserire anche la variabile rischio oltre alla variabile prezzo, oltre alla variabile rendimento atteso e oltre alla variabile rendimento passato nel nostro nuovo sistema di fasce. Sicuramente una variabile di rischio può essere il rischio infortuni, su questo non ci sono dubbi. Il rischio dell'adattamento al modulo in quell'anno, pensiamo a Mkhitaryan quest'anno. Il rischio della situazione contrattuale, che può essere un'arma a doppio taglio, nel senso che a volte la situazione contrattuale ci fa pagare meno dei giocatori all'asta, ma è anche vero che se poi questa situazione contrattuale non si risolve e va a degenerare, potrebbe poi crearci dei problemi. Il rischio concorrenza e minutaggio, pensiamo ad esempio ai giocatori dell'Atalanta che non sempre ci garantiscono 90 minuti o poco meno ogni partita, alcuni addirittura saltano proprio delle partite. E poi ovviamente il rischio squadra. Che cos'è il rischio squadra? È ovvio che se vado a comprare un giocatore di Inter, Milan, Juve, Napoli, più o meno so che faranno un campionato di vertice, ci sarà chi arriva primo, secondo, terzo, quarto, ma comunque so che saranno lassù. Se vado a comprare un giocatore di una squadra di media classifica, beh, ci può essere l'anno, come quest'anno magari il Verona o anche il Sassuolo, dove davanti le cose funzionano molto bene e dove in generale la squadra va bene, puoi anche beccare però l'anno dove la squadra non gira bene e magari anziché arrivare ottava o nona, poi arriva a quattordicesima e quindicesima. E sappiamo che in quei casi lì anche i voti, anche le prestazioni in generale poi del singolo giocatore ne possono risentire. Quindi anche il rischio squadra è sicuramente una variabile da tenere conto. È ovvio, ho il vantaggio magari che la squadra medio-piccola non ha le coppe, non fa turnovere eccetera eccetera, però l'annata storta può capitare molto di più a una squadra di medio-bassa classifica che a una di quelle 4-5 che bene o male ogni anno sono sempre le stesse. Ok ragazzi? Ecco, queste sono le cose più importanti secondo me che ci devono restare almeno per ora quando andremo a pensare tra 1, 2, 3, 4 mesi al discorso degli slot. Come avete visto, a differenza della strategia della terra di mezzo, questa non è una strategia mirata ad un certo tipo di fantacalcio. È semplicemente un modo di mettere in discussione, di ridiscutere il sistema slot prima di andare a fare le nostre fasce. Ok? Mentre invece quello che abbiamo visto nella strategia terra di mezzo è un approccio che parte da alcune premesse simili al progetto basta slot, ma che poi va a specificarsi diciamo su una determinata strategia attuabile solamente in alcuni tipi di fantacalcio. Soprattutto fantacalcio a 10, massimo 12 giocatori con modificatore difesa importante, classico o dinamico. Ci tengo a sottolinearlo perché ho visto un po' di confusione tra le due cose. Sono due cose proprio diverse a livello proprio di utilità. Una è una strategia, l'altro è un modo di prepararsi diversamente all'asta del fantacalcio, alla compilazione delle fasce. Ok ragazzi? Grazie mille. Grazie mille per essere stati in mia compagnia durante anche questo percorso, questo progetto. Basta slot. Vi anticipo che domani alle 13.30 uscirà invece un video abbastanza atipico dove andremo a vedere quali sono le 5 cose da fare se in questo momento al fantacalcio sei già tagliato fuori dai primi posti e non puoi neanche più arrivare al podio. Sarà un video secondo me molto utile, anche quello poi fatemi sapere cosa ne pensate. Vi ricordo di seguirmi anche sulla piattaforma viola, canale Il Profeta Twitch. Questa sera, a meno di sorprese dell'ultimo minuto, mi troverete in live sul canale di Ludovico Rossini alle ore 23 in compagnia di Carmi Special, Ricosta, Lorenzo Cantarini. Andremo un po' a commentare quello che è successo in questa 29esima giornata di Serie A e quello che succederà questa sera con Lazio-Venezia perché non è ancora finita. Mentre invece poi mercoledì alle 13.30 dovrebbe, uso il condizionale perché sto aspettando ancora qualche contributo da parte vostra ma direi che a meno di novità mercoledì si inizia, uscirà il nuovo format Rose da Incubo. Un format dedicato proprio a chi in questo momento è ultimissimo in classifica, dedicato a chi è il proprietario di una rosa appunto da Incubo. Sarà un format un po' diverso dove cercheremo con le vostre testimonianze attraverso vocali o video, a seconda di quello che mi avete mandato, andremo a cercare di capire quali sono stati gli errori di cui vi siete resi conto che avete fatto quest'anno all'asta e vediamo appunto come non farli più le prossime volte. Quindi penso che anche quello sia un format utile sia a me che lo faccio sia anche a voi che magari ascolterete il video. Grazie mille ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo o questa sera come vi ho detto oppure domani alle ore 13.30. Grazie mille, ciao a tutti e alla prossima. Ciao!